Ed è il momento della nostra cartolina, grazie ai vostri scatti stiamo conoscendo e apprezzando sempre più gli angoli della Calabria. Oggi vi portiamo al Parco Scolacium, la foto è di Diodato Campagna, sono imponenti ruderi dell'antica Basilica Normanna, consagrata a Santa Maria della Roccella, la basilica tra le più belle e importanti costruite dai normanni in Calabria. Ringraziamo i nostri telespettatori.